Gli uomini, il sesso e l'amore, la coppia, le donne, la femminilità, la seduzione Vorrei sapere quali sono i dieci comandamenti della seduzione Io non ne so manco uno Lei ha raccolto i temi più intriganti con gli occhi di più riferenti e delle puntate più esaltanti in Protagonista e Collection Ogni sabato e domenica alle 14 alle 23 Grazie